Bene, grazie allora, buonasera e auguri. Grazie, benvenuti, benvenuti, buonasera. Il signore che è appena uscito ha richiarato e pagato un oggetto che aveva scelto sul nostro sito. Infatti è possibile acquistare utilizzando la modalità pick and pay. Voi andate sul nostro sito, scegliete l'oggetto che più vi piace, lo acquistate, scegliendo però di venirlo a ritirare in negozio. In questo modo potete occupare di uno sconto del 5%.